Siamo, siamo pronti con il colpo di pistola, è partita la decima edizione della Twilio Run. Grazie a tutti voi, gara inserita nel calendario del Corri La Bruffa, Corri La Bruffa Wisp, nonostante la concomitanza domani della Minamico Tour, ovviamente che il talento domani a 18 km non può essere presente oggi a questa manifestazione. Siamo, siamo pronti con il colpo di pistola, è partita la decima edizione della Twilio Run. Grazie a tutti voi, gara inserita nel calendario del Corri La Bruffa, Corri La Bruffa Wisp, nonostante la concomitanza domani della Minamico Tour, ovviamente che il talento domani a 18 km non può essere presente oggi a questa manifestazione e pertanto sarà una data da, sicuramente da cambiare per il futuro, ma solo più di 250 km con la gara non competitiva. Ehi ragazzi, forse arriveremo anche a più di 300. Sono partiti 11 km del percorso e adesso andiamo con la musica. Grazie a tutti.